Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattata la classificazione delle civiltà, umana ed eventualmente aliene, in base al loro livello tecnologico. Una delle grandi domande che si pone da sempre l'umanità è se siamo soli nell'universo. Gli scienziati al riguardo si dividono. In chi pensa che le condizioni climatiche del nostro pianeta, le coincidenze che hanno permesso l'evoluzione dell'uomo e la storia astronomica della Terra siano fattori talmente rari che è plausibile pensare che siamo l'unica specie intelligente nell'universo. Dall'altra parte c'è chi pensa invece che l'universo sia talmente vasto, con talmente tanti pianeti anche nella fascia abitabile, cioè quella corona circolare intorno ad una stella in cui l'acqua può esistere allo stato liquido, che sia impossibile che l'uomo sia l'unica specie intelligente esistente. Inoltre se crediamo agli UFO, intesi come astronavi aliene di altri mondi o altre dimensioni, dobbiamo per forza credere che esistano civiltà non solo intelligenti, ma anche molto più avanzate della nostra. Per come misurare il grado evolutivo di una civiltà, negli anni sono nate diverse classificazioni, ma la più importante forse è quella stilata dall'astronomo russo Nikolai Semenovich Kardasev. Nikolai Semenovich Kardasev aveva notato come con il passare dei secoli, nella civiltà umana all'aumentare del suo livello tecnologico, il consumo energetico era aumentato di conseguenza, grazie alla scoperta di nuove fonti energetiche o all'ottimizzazione di quelle già note. Partendo da questa constatazione nel 1964 Kardasev propose un metodo di classificazione delle civiltà, secondo una progressione esponenziale, in funzione della quantità di energia a disposizione che utilizza e da cui è associato un corrispondente livello tecnologico. L'esistenza delle civiltà descritte in questa scala è del tutto ipotetica, ma questa scala è utilizzata come base di partenza nella ricerca del progetto SETI ed è inoltre richiamata in varie opere di fantascienza e non. Su questa base egli classificò le civiltà in tre tipologie. Civiltà di tipo 1, cioè civiltà planetarie. Queste civiltà sono in grado di utilizzare tutta l'energia disponibile sul suo pianeta d'origine, per la Terra valutata in 4x10 alla 16 Watt. Civiltà di tipo 2, cioè civiltà interplanetarie. Queste civiltà sono in grado di utilizzare tutta l'energia della stella del proprio sistema solare, per il Sole valutata in 4x10 alla 26 Watt. Civiltà di tipo 3, cioè civiltà interstellari. Queste civiltà sono in grado di utilizzare tutta l'energia della propria galassia, sfruttando le risorse di stelle, pianeti, satelliti, eccetera, per la nostra Via Lattea è valutata 4x10 alla 36 Watt. La scala di Kardasev iniziale presentava solo tre tipologie di civiltà. In seguito, per permettere anche alla civiltà umana di essere inclusa nella scala, fu aggiunto un nuovo tipo, il tipo 0. Nel tipo 0 vengono inserite tutte le civiltà in grado di utilizzare almeno 1 MW di energia ma, non è ancora in grado di sfruttare tutta l'energia del suo pianeta natale. Inoltre non ha ancora la possibilità di lasciare il proprio pianeta natale ma sta facendo progressi costanti per farlo. Carl Sagan ha definito un metodo per calcolare il livello di una civiltà nella scala di Kardasev, per mezzo della seguente formula, nella quale K rappresenta il livello di civiltà nella scala e P la potenza utilizzata da questa civiltà. Secondo questo metodo la civiltà umana sarebbe ad un livello di 0,724, assumendo il valore di P pari a 153.000 TWh di consumo energetico mondiale per l'anno 2019. Secondo Kardasev, la Terra già nel 1964 avrebbe potuto percepire la presenza di una civiltà di tipo 3 sotto forma di emissione di onde radio o di fasci laser. Nel 1965 ritenne di aver intercettato uno di questi segnali nella radiogalassia CTA-102 e la notizia venne pubblicata con grande risalto dall'agenzia TAS, ma in seguito apprese che pochi giorni prima un astronomo olandese, Martin Schmidt, aveva identificato il segnale come l'emissione di un quasar. In seguito Josef Sklovsky, principale collaboratore di Kardasev, giunse alla conclusione che una civiltà di tipo 3, dopo aver superato il rischio di autodistruzione per conflitti o eventi catastrofici, non potrebbe che autoestinguersi per il sopraggiungere della singolarità tecnologica. Jack Cohen e Ian Stewart hanno sostenuto che se non possiamo comprendere civiltà più avanzate, non possiamo neppure ipotizzare in che modo esse si evolvano. Inoltre il progresso tecnologico umano è dipeso da una successione di scoperte, talvolta fortuite, come la scoperta della penicillina o del velcro, e dalla presenza di determinate condizioni, come la presenza dei combustibili fossili, che potrebbero non essere universalmente diffuse. Nel progredire di una civiltà prima o poi arriva l'esigenza di attraversare le enormi distanze spaziotemporali tra le stelle, per la quale sono necessarie grandi quantità di energia e quindi della necessità di sviluppare tecnologie per l'acquisizione di energie di livello superiore. Una civiltà del primo tipo riuscirebbe a massimizzare l'uso di tutto il potenziale energetico presente sul proprio pianeta d'origine. I combustibili fossili come carbone, gas e petrolio potrebbero rivelarsi inadeguati per raggiungere questo livello, ma soprattutto non sarebbero in grado di garantire continuità, poiché sono destinate ad esaurirsi in pochi anni. Bisognerebbe invece attingere al massimo delle loro potenzialità alle fonti di energia rinnovabili, come l'energia idroelettrica, solare ed eolica. Altrettanto importante sarebbe l'energia nucleare, in particolare se si riuscisse a produrre in modo controllato la fusione nucleare, la stessa che avviene all'interno del Sole. Civiltà di secondo tipo sarebbero in grado di sfruttare tutta l'energia della stella del proprio sistema solare. Per poter concretamente catturare questa immensa quantità di energia potrebbe essere fatto costruendo una sfera di Dyson. Si tratta di un'enorme sfera con un raggio di scala planetaria, in grado di racchiudere come un guscio una stella per catturarne tutta l'energia emessa in ogni lunghezza d'onda. Costruire una di queste sfere sarebbe senz'altro un'impresa titanica, dovrebbero essere smantellati interi pianeti e il cantiere rimarrebbe aperto per secoli. Però è interessante notare come, dopo il completamento di una prima porzione della sfera, questa potrebbe fornire abbastanza energia da sostenere la costruzione di quelle successive, in una sorta di processo di autosostentamento del progetto. Civiltà giunte ad un simile livello tecnologico potrebbero riuscire anche a sfruttare il potenziale energetico dell'antimateria. Attraverso le attuali conoscenze e tecnologie produrre antimateria è un processo altamente costoso. Secondo la NASA servirebbero oltre 62 miliardi di dollari per produrre un solo grammo di antidrogeno. Ma in futuro questa potrebbe diventare molto più conveniente. Quando una particella e un'antiparticella entrano in contatto si annichiliscono, trasformando tutta la loro massa in energia secondo l'equazione di Einstein. Energia uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato, e quindi in futuro l'antimateria potrebbe diventare la fonte di grandissime quantità di energia disponibile. Un'ulteriore possibile fonte energetica per queste civiltà possono essere i buchi neri. In linea teorica è infatti possibile ridurre il momento angolare di un buco nero rotante, generando grandi quantità di energia. Si tratta del processo suggerito dal premio Nobel Roger Penrose. Si tenga presente che a questi livelli è altamente probabile che queste civiltà abbiano una natura post-biologica ed intrapreso una via biomeccanica o completamente artificiale. Le civiltà di terzo tipo sono in grado di utilizzare tutta l'energia della propria galassia. Questo genere di civiltà potrebbero applicare tutte le precedenti tecniche su larga scala a tutte le stelle della propria galassia. Inoltre sarebbero in grado di utilizzare a proprio vantaggio i buchi neri supermassicci che si trovano al centro d'ogni galassia e le emissioni dei quasar, ovvero buchi neri giganteschi circondati da dischi di accrescimento. Questo genere di civiltà potrebbe utilizzare anche i buchi bianchi, l'esatto opposto dei buchi neri, la cui esistenza è però attualmente puramente teorica. La scala Kardasev, così come originariamente concepita dal proprio autore, terminerebbe al terzo tipo, Kardasev credeva che una civiltà di tipo 4 fosse troppo avanzata e che nessuna specie avrebbe mai potuto raggiungere questo livello, così non è andato al di là del tipo 3 nella sua scala. Ma ciò non ha impedito ad astronomi e fisici, oltre ad autori di fantascienza, di concepire tipologie di civiltà ancora più elevate del tipo 3, portando alle estreme conseguenze il principio dell'uso dell'energia in quantità sempre maggiori. Seguendo la progressione esponenziale, le tipologie di civiltà ancora più avanzate sarebbero. Civiltà di tipo 4. Cioè civiltà in grado di controllare tutta l'energia di un super ammasso di galassie, circa 10 alla 46 Watt. Civiltà di tipo 5. Cioè civiltà in grado di disporre dell'energia dell'intero universo visibile, circa 10 alla 56 Watt. Una civiltà di questo tipo è probabilmente ipotizzabile nell'ambito della teoria del punto Omega di Frank Tipler, trattato in questo canale in un precedente video. Civiltà di tipo 6. Cioè civiltà in grado di disporre dell'energia di più universi, 10 alla 66 Watt, con la possibilità di alterare le leggi della fisica in ciascuno di questi universi. Civiltà di tipo 7. Civiltà capaci di creare universi a volontà e di utilizzarli tutti come fonti energetiche o utilizzarli per scopi per noi inimmaginabili. Civiltà di tipo 8. Civiltà di esseri superiori capaci di creare universi a proprio piacimento, ma che attingono energia da fonti non cosmiche. Civiltà di tipo 9. Civiltà di esseri estremamente superiori capaci di creare oggetti non cosmici che utilizzano come fonte primaria di energia. Civiltà di tipo 10. Civiltà di esseri che hanno raggiunto una capacità tecnologica tale da aver abbandonato il mondo cosmico come lo conosciamo per continuare a vivere ed evolversi in universi non cosmici creati da loro stessi, al di fuori delle nostre leggi fisiche, ipoteticamente parlando questi esseri possono essere realmente considerati degli dei nel senso stretto della parola. Gli esseri delle civiltà di tipo 6 fino al tipo 10 possono, dal mio punto di vista, essere considerate divinità. Estrapolando in base al tasso di crescita attuale del consumo energetico planetario, secondo Michio Kaku, fisico teorico statunitense, l'umanità potrebbe raggiungere una civiltà di tipo 1 intorno al 2200, di tipo 2 intorno al 5200 e di tipo 3 intorno al 7800, probabilmente tutti gli altri stadi possono essere raggiunti solo dopo milioni di anni ed eventualmente con la collaborazione di eventuali civiltà aliene, oppure non possono essere raggiunti a causa della singolarità tecnologica o di qualche catastrofe naturale. Inoltre bisogna aggiungere che si tratta di speculazioni teoriche e che probabilmente non esistono civiltà che abbiano un livello superiore al 2.5 perché se fossero esistite civiltà di una classe superiore a questo livello, ce ne saremmo accorti dalle loro attività nello spazio. Anche se ci fossero state in passato civiltà di un livello superiore al 2.5, e poi fossero scomparse per motivi sconosciuti, avremmo comunque dovuto trovare delle tracce minime relative alla passata presenza di queste civiltà. Nel suo libro, Parallel Worlds, Michio Kaku ha provato a descrivere una civiltà di tipo 4, che potrebbe sfruttare fonti extragalattiche di energia, come l'energia oscura. Ciò significa che le società di tipo 4 potrebbero realizzare imprese di proporzioni gigantesche, che a noi apparirebbero come sovrumane, come ad esempio cambiare la struttura dello spazio-tempo stesso o il rallentamento dell'entropia. Dal momento che esse potrebbero manipolare lo spazio-tempo, potrebbero anche attraversare tutto l'universo con una velocità tale da raggiungere l'altro capo del cosmo quasi istantaneamente. Avrebbero colonizzato sistemi di numerose stelle ed intere galassie. Una tale civiltà sarebbe in grado di sfruttare stelle e pianeti a loro piacimento, sarebbe in grado di operare in modo tale da creare l'esatto tipo di sistema stellare con l'esatto tipo di pianeti sui quali stabilirsi. Essi sarebbero in grado di sfruttare tutta la produzione di energia stellare e di riprodurla nel caso ce ne fosse bisogno. Questo sembrerebbe tanto improbabile quanto impossibile per una civiltà come la nostra, in quanto questo tipo di civiltà avanzata avrebbe bisogno di attingere a fonti di energia a noi sconosciute, e per farlo avrebbe dovuto utilizzare strane leggi della fisica, a noi attualmente ignote. Un giorno, potremo anche noi capire come creare le tecnologie per evolverci in tali esseri. La teoria di Kardashev può essere collegata ad altre teorie sociali, come quella proposta da Leslie White nel suo libro The Evolution of Culture. In The Development of Civilization to the Fall of Rome, del 1959, Leslie White si propone di spiegare tutta la storia dell'umanità sulla base dello sviluppo della tecnologia. White riteneva infatti che i progressi tecnologici determinerebbero l'organizzazione sociale, seguendo le idee dell'etnologo e antropologo statunitense dell'Ottocento Louis Henry Morgan, e proponeva come misura del livello di avanzamento di una società quella del suo consumo energetico, proponendo cinque stadi, quello dell'energia muscolare personale, dell'utilizzo di animali domestici, delle energie fossili ed infine dell'energia nucleare. La teoria di White si traduce nella formula P uguale E per T, dove P sta per progresso, e per energia consumata e T un coefficiente determinato in base all'efficacia delle tecnologie che utilizzano questa energia. Nell'ottobre 2015, si sono osservati variazione di luminosità della stella Kik 8.462.852 nella costellazione del Cigno. Tali variazioni, risultanti da osservazioni effettuate col telescopio spaziale Kepler, corrispondono come andamento a quanto si potrebbe osservare nel caso di un sistema solare circondato da una sfera di Dyson, una megastruttura capace di raccogliere tutta l'energia emessa dalla stella, una cosa tipica di una civiltà di tipo 2 ma, tale variazione di luminosità potrebbe essere dovuta anche a una nube di polvere che ruota intorno a questa stella o ad altro. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e dalla prossima.